Il salto in Italia lo fai nel momento in cui musicalmente fai qualcosa che ricordi una formula americana cioè se tu diventi la versione italiana di un artista americano che sta avendo successo in quel momento la gente ti riconosce. Io avevo secondo me già un'identità con Turbe Giovanili quando ho fatto dall'alzeta, mi stai sul cazzo, avevo un'identità di rapper fuori dall'impero che veniva dalla provincia però proprio con l'elmetto e la spada venga in guerra, avevo già un'identità però la gente non lo riconosceva perché ero effettivamente Fabri Fibra, ero me. Hanno iniziato a capire me quando non ero più me ma quando facevo l'Eminem italiano. Così per tutti c'è il cane west italiano, c'è il ricross italiano cioè una volta che fai questo gli italiani capiscono cosa fai e ti seguono.